Musica Ma ben trovate carissime telespettatrici e carissimi telespettatori di Barahonda Siamo al bar San Magno di San Mango con Stefania Ciao Stefania come stai? Bene Bene, Stefania non voleva parlare, non voleva dire niente perché è contenta E adesso, fai vedere Stefania come è contenta? Sorride, è felice perché il 16 e il 17 di luglio qui al bar San Magno ci sarà Barahonda Show, il karaoke di Barahonda Insomma ci divertiremo con una serata fantastica, con musica, magari insomma qualche ballettino lo faremo Sicuramente sarà una serata all'insegna dell'allegria Allora, sabato 16 luglio di sera chiaramente Barahonda Show con il karaoke, l'allegria di sempre Canteremo tutti insieme, quindi amici di San Mango e Paesi Limitrofi, anche di Salerno Amici londinesi, eh, di Londra, che state a Londra, che piove sempre, che ci fate a Londra? Venite qui a San Mango perché sabato 16 sera, e non solo, si replica anche la domenica 17 di luglio ci sarà Barahonda Show con il karaoke Mi raccomando, non mancate, molto probabilmente uno scoop, che ve lo do ora, ci sarà anche Stefania, è vero? Sì, ci sarò anch'io, avete visto? Ma lei è contenta, è felice, però non può esprimere al massimo la sua gioia perché chiaramente deve lavorare qui al bar San Magno Allora, vi aspettiamo? Tutti? Venite? Mi raccomando, 16 e 17 luglio, non mancate, venite a cantare con noi Ciao, io vado Rosario!